E passiamo ora alla politica perché come avete ascoltato dal lancio il Consiglio dei Ministri ha stoppato definitivamente le ambizioni del Governatore Donato Toma di ambire alla nomina di commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario. Nel decreto emergenze che è stato approvato dal Governo spicca una norma che dispone l'incompatibilità tra la carica di Presidente di Regione e quella di commissario alla Sanità. Ma vediamo nel dettaglio. Ora è ufficiale, non sarà donato Toma il commissario ad acta alla sanità mettere la pietra tombale sulle aspirazioni più volte manifestate dal Governatore spalleggiato fin dal primo momento dalla maggioranza e da una parte dell'opposizione e il decreto emergenze approvato dal Consiglio dei Ministri. La norma dispone infatti l'incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione e il ruolo di commissario ad acta alla sanità. L'incompatibilità vale anche per i commissariamenti in corso, come nel caso della Campania, che saranno ridefiniti entro i prossimi 90 giorni. Il Movimento 5 Stelle porta a casa il risultato a cui non ha mai fatto mistero di ambire. La dimostrazione arriva dalle dichiarazioni a caldo del parlamentare Antonio Federico, secondo il quale ora bisogna lavorare insieme per individuare una figura terza, slegata da interessi di bottega e che abbia un profilo istituzionale e professionale tale da ridare ai cittadini fiducia nel sistema sanitario regionale. Qualcuno che, secondo Federico, punti senza esitazioni su una sanità pubblica e di qualità. In attesa di conoscere il nome del tecnico, è incaricato di portare il Molise fuori dal regime di commissariamento in vigore dal 2007, con le prevedibili conseguenze che hanno determinato la paralisi del sistema. Si registrano le prime reazioni dalla maggioranza di centrodestra, mentre il presidente per ora sceglie la linea del silenzio. Il consigliere Nico Romagnolo annuncia che chiederà al gruppo parlamentare di Forza Italia di attivarsi perché la norma, definita antimolise, sia eliminata dal provvedimento che dovrà ora passare al vaglio delle due camere. Reazioni arrivano anche dal centrosinistra. Secondo il consigliere del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, il governo nazionale con tale provvedimento ha sancito che il governo regionale non conta nulla.